Un abbraccio peloso e dolcissimo con Matilda Un abbraccio peloso e dolcissimo con Matilda La tenera bulldog francese è molto graziosa e ha conquistato da subito tutti i cuori dei fan E, a quanto pare, anche quello del rapper Fedez è dolcissimo con Matilda L'amore di Fedez per gli amici a quattro zampe, e in particolare per i cagnolini, era già a cosa nota a tutti, visto che il rapper milanese ha amato moltissimo i suoi Chihuahua, Gue e Kefbeca, che pare, però, siano andati a vivere con la sua ex fidanzata, Giulia Valentina Per fortuna, la sua futura moglie, Chiara Ferragni ha colmato questo grande vuoto non solo con il suo amore, ma anche grazie a una splendida nuova amica pelosa, Matilda, la bulldog francese che ha conquistato subito il cuore del rapper milanese Da uno degli ultimi scatti pubblicati su Instagram, vediamo che l'affetto tra i due è reciproco, Fedez abbraccia dolcemente la cagnolina della Ferragni, con un abbraccio coloratissimo visti i suoi numerosi tatuaggi, mentre lei lo ricambia con la sua morbidezza pelosa e appare davvero contenta mentre fissa l'obiettivo della fotocamera Un musetto paffuto, elegante e sorridente, quello di Matilda, al momento piuttosto paparazzata insieme alla sua padroncina quando escono nel giardino privato del condominio dove abita Fedez E sì, la bulldog è una superstar nazionale, visto che i suoi accessori sono addirittura stati inclusi in una delle hit più ascoltate di Fedez, vorrei ma non posto Ormai, tutti i fan della coppia più chiacchierata d'Italia conoscono questa meravigliosa storia d'amore di di come Matilda sia stata la loro galeotta personale, diciamo così Grazie al verso di quel brano il cane di Chiara Ferragni a il papillon di Whitton la fashion blogger numero uno al mondo è stata attirata magneticamente dal futuro fidanzato, dopo aver ascoltato la canzone e aver ricambiato l'omaggio a Matilda con un video dove cantava proprio quelle parole, i due hanno cominciato a scriversi Ecco uno dei motivi per cui Fedez si è da subito affezionato a questo batuffolo di amore e tenerezza, la cagnolina, poi, si è ambientata perfettamente nel suo loft milanese, aggiudicandosi anche il letto nel divano Fedez, Chiara e Matilda, un trio familiare molto felice Tutti i fan dei piccioncini più amati di Italia si aspettano grandi notizie nel prossimo futuro, Chiara Ferragni e Fedez, infatti, dovrebbero al più presto annunciare la loro data di nozze e chissà, forse anche qualcosaltro Tempo fa e non così tanto i due ragazzi hanno manifestato il desiderio di avere presto un figlio e anzi, erano già piuttosto convinti anche sul nome da dare al futuro erede Entrambi, in una delle loro Instagram stories, avevano confessato di desiderare un maschietto, ma Chiara è certa, avrà una femmina e sa anche già come chiamarla Ovviamente, il misterioso nome non è stato ancora rivelato, ma c'è tempo Intanto, rapper e blogger si godono dolci momenti di famiglia insieme alla loro baby, come chiamano Matilda, la bulldog francese, infatti, è talmente parte della coppia che ha addirittura diritto a una porzione del loro lettone Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!